cari amici di all4shooters benvenuti all'ottava lezione di scienza e tecnica delle armi da fuoco e degli esplosivi nella video lezione di oggi andremo a vedere gli elementi di balistica nel tiro a lunga distanza vedremo l'influenza del vento il coefficiente balistico temperatura pressione atmosferica spin drift forza di corioli e il fenomeno del miraggio long range shooting con in termini long range shooting viene indicata una disciplina sportiva nella quale il bersaglio è posto a distanze rilevanti tali per cui per colpire il suddetto bersaglio sarà necessario calcolare tutta una serie di variabili che vanno oltre la semplice mira il concetto di lunga distanza ovviamente è relativo al calibro impiegato senza scendere in dettagli eccessivamente complessi sappiamo che un conto è sparare con un 22 ed un conto è sparare con un 308 gli elementi di cui il tiratore deve preoccuparsi per procedere ad un tiro su lunga distanza non sono pochi ed in questa lezione li vedremo insieme uno per uno in modo dettagliato iniziamo l'influenza del vento in meteorologia il vento viene definito come lo spostamento di una massa d'aria atmosferica da una certa area con alta pressione detta area anticiclonica ad altra area con bassa pressione detta area ciclonica il vento come ovvio che sia non soffia in modo costante ed unidirezionale ma anche la stessa direzione del vento e dell'intensità di questo sono fattori influenzati da moltissimi elementi il tiratore sarà quindi chiamato a sviluppare un certo occhio quando si parla di vento e degli effetti di questo sulla riuscita di un certo tiro su lunghe distanze tra le altre cose anche la conformazione del terreno gioca un ruolo fondamentale poiché una certa conformazione del terreno magari non perfettamente regolare influenzerà l'andamento e del comportamento del vento in un certo modo a riprova di quanto stiamo dicendo basta ragionare un po e pensare a come si comporta il vento in mare aperto oppure altrimenti in montagna abbiamo quindi capito che il tiratore dovrà sulla base del proprio occhio ma anche di rilievi prevedere per quanto possibile l'andamento del vento dal momento in cui esplode il colpo fino a quando il colpo stesso non avrà colpito il bersaglio a livello matematico l'intensità del vento è soggetta a così tante variabili che prevedere in modo più o meno certo quale sarà il suo comportamento è quasi del tutto impossibile possiamo affermare che la deviazione della traiettoria di un dato proiettile è direttamente proporzionale all'intensità del vento a cui il proiettile è soggetto il coefficiente balistico il coefficiente balistico in fisica è un valore che esprime la capacità di un dato proiettile di vincere la resistenza dell'aria la capacità di un proiettile di superare la resistenza dell'aria è estremamente difficile da calcolare a livello matematico possiamo comunque dirvi che se è funzione quindi dipende dalla massa dell'oggetto dal diametro dello stesso o da una costante i che esprime le caratteristiche prettamente aerodinamiche del proiettile stesso pressione atmosferica altro elemento che influisce l'andamento della traiettoria di un proiettile sulle lunghe distanze è la pressione atmosferica in fisica la pressione atmosferica indica la forza esercitata sull'unità di superficie al suolo oppure anche in quota dovuta al peso dell'aria sovrastante nella pratica della balistica esterna e negli studi in seno a questa particolare branca della fisica si utilizza un particolare parametro che prende il nome di atmosfera ICAO l'acronimo ICAO sta per International Civil Aviation Organization ed è senza dubbio lo standard di riferimento più usato per lo studio del comportamento di un proietto il coefficiente ICAO si basa a sua volta su alcuni parametri di riferimento standardizzati che possono comunque essere modificati dagli operatori che lavorano con i software di analisi balistica i parametri sono i seguenti la densità dell'aria grammi per litro 1,2251 temperatura dell'aria 15 gradi umidità relativa allo 0 per cento la pressione atmosferica in millibar 1013,25 la velocità del suono metri al secondo 340,30 esistono poi tutta una serie di altri parametri che differiscono con lo standard ICAO per valori trascurabili e invece per alcuni meno trascurabili chiaramente gli standard sono intercambiabili sulla base delle esigenze dell'operatore al software di calcolo balistico i calcoli dimensionali sono eseguiti in modo automatico dal software temperatura altro fattore importante in materia di calcoli balistici e di resa su lunghe distanze di un dato proiettile è sicuramente la temperatura le temperature di riferimento sono due la prima la temperatura esterna la temperatura esterna determina la scelta delle polveri impiegate nelle cartucce per il tiro a lunga distanza si preferisce in caso di temperature rigide l'impiego di munizionamenti dotati di polveri alla nitrocellulosa altrimenti bibasiche attenuate con strutture fisiche non eccessivamente porose ed un alto grado di gelatinizzazione in tal modo si va a scongiurare un eccessivo assorbimento di umidità da parte della polvere stessa successivamente abbiamo le temperature interne anche in tal caso sarà necessario comprendere in che modo la temperatura sviluppata sia da considerarsi funzione della resa di un proiettile su lunghe distanze senza addentrarci nei calcoli complessi la temperatura sviluppata da una polvere quando brucia è importante perché è proprio quella temperatura del gas sprigionato in uno spazio ristretto come quello del bossolo a far aumentare vertiginosamente la pressione e ad imprimere quindi al proietto la forza necessaria per vincere la resistenza all'aria per correre grandi distanze fenomeno dello spin drift col termine spin drift si indica in fisica la deriva subita dal proietto a causa della sua stabilizzazione giroscopica in pratica anche qui senza rendere tutto troppo complesso possiamo dire che nel tiro a lunghe distanze il proiettile deriva nella direzione del senso di rotazione dello stesso il termine deriva indica un comportamento tipico di un proietto che per effetto di molte variabili fisiche tende a non seguire quella direzione parabolica teorica che dovrebbe seguire se il proietto si muovesse in un sistema di riferimento privo di effetti di interferenza sul moto stesso semplificando a livello teorico il proietto si muove lungo una direzione che disegna una parabola ma a causa di tutta una serie di elementi di interferenza questa parabola non è precisa e in sostanza di quanto il proiettile varia il proprio moto e la propria direzione rispetto alla parabola di riferimento detto appunto errore di deriva effetto della forza di corioli come sappiamo la terra gira attorno al proprio asse tale movimento rotatorio da origine a quella che viene definita una forza apparente che prende appunto il nome di forza di corioli il nome deriva dallo scienziato francese gaspard gustave de corioli lo studio dell'influenza della forza di corioli ci spiega alcuni fenomeni molto curiosi quali la deviazione apparente del modo del proietto che è verso destra nell'emisfero settentrionale verso sinistra in quello meridionale nullo all'equatore e molto pronunciato a latitudini elevate la fisica ci spiega che dopo che il proietto viene lanciato il bersaglio continua anch'esso a ruotare attorno all'asse terrestre nel caso in cui non si calcoli tale effetto anche quando si tratta di tarare i sistemi di mira e puntamento il proietto quasi certamente mancherà il bersaglio una curiosità che in pochi sanno è che riguarda sicuramente quella che riguarda sicuramente una celebre battaglia un celebre conflitto durante la prima guerra mondiale nella celebre battaglia delle isole folkland l'8 dicembre del 1914 tra le unità navali della royal navy britannica e le navi della kaiserlich marine gli ufficiali delle navi di sua maestà al cui comando vi era l'ammiraglio ser dovoten stardi avevano a loro dire perfettamente tarato i sistemi di puntamento ma senza che ve ne fosse apparente ragione una volta esplosi i colpi finivano a ben 100 metri di distanza dalle navi tedesche al cui comando vi era l'ammiraglio maximilian von spee che cosa stava accadendo semplicemente gli inglesi non avevano calcolato gli effetti della forza di corioli il loro bersaglio gli incrociatori tedeschi continuavano comunque a ruotare attorno all'asse terrestre la battaglia comunque finì con una netta vittoria degli inglesi che ricalibrarono immediatamente i loro cannoni ed affondarono una dopo l'altra i due incrociatori corazzati e i due incrociatori leggeri tedeschi nella battaglia morirà assieme a tutto l'equipaggio anche l'ammiraglio von spee fenomeno del miraggio altro effetto che deve essere tenuto in considerazione quando si mira con l'intento di mandare un proietto su un bersaglio posto a lungo distanza è l'effetto del miraggio in particolare l'effetto che interessa i tiratori a lunga distanza è l'effetto del miraggio superiore l'effetto sia quando i raggi del sole incontrano una massa di aria più calda rispetto agli strati in cui l'aria più fredda e da una densità maggiore i raggi di luce subiscono così una riflessione totale ed è possibile vedere le immagini capovolte o addirittura apparentemente più vicine di quanto in realtà non lo siano